Sono Giovanni Romagnani, coordinatore di ESP di Budro. Budro è una delle tre realtà, una delle tre CSM di Bologna all'interno del quale è presente la rete ESP. La rete ESP è presente nel CSM di Budro, Mazzacorati e San Lazzaro. Quello che diciamo agli utenti, facendo un po' gioco su quello che durante la guerra del Vieta, ma sottolineo noi siamo pacifisti, era lo slogan americano, cioè utente come noi ESP che oggi presentiamo il mio manifesto, cioè le nostre linee programmatiche, utente abbia il coraggio di essere, di esprimerti e di collegarti, se vuoi, con la rete degli operatori, la rete degli ESP, per cercare di creare delle rete all'interno del quale i tuoi talenti e le nostre aspettative trovino un punto di unione. Questo è l'aspetto principale, noi crediamo in una recovery che tenga conto dei talenti individuali, che possa fare riferimento a quello che è la recovery star, che è un format inglese portato avanti nel Chiaro del Bosco in Italia, che è a sede a Brescia, e diciamo non avere più paura di manifestare quelle che sono le tue aspettative, perché noi ESP siamo assolutamente incline a soddisfarle e a portarle avanti. Questo è il messaggio principale che oggi all'interno di Biserba, cosa ci riserva, cercheremo di esprimere. Con questo vi saluto e esprimiamoci.